Alla vertice della Nato a Bruxelles gli stessi temi affrontati al G7. Stoltenberg afferma difendiamo i nostri valori da Cina e Russia nel documento finale cyber sicurezza e cambiamenti climatici. Sentiamo il corrispondente Gavino Moretti. La Nato è importantissima e se non ci fosse si dovrebbe inventarla, afferma il presidente Biden nel suo bilaterale con il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Stoltenberg l'incontro chiude definitivamente la difficile stagione vissuta dalla Nato con l'ex presidente Trump quando Biden precisa che l'articolo 5 del trattato, il cosiddetto tutti per uno, uno per tutti è un sacro obbligo mentre il suo predecessore era arrivato a metterlo in dubbio per spese militari giudicate insufficienti. Soltanto insieme si possono affrontare le nuove sfide della geopolitica mondiale aggiunge Biden e la prima minaccia arriva dalla Cina. La crescente influenza di Pechino e le sue politiche internazionali sono una sfida sistemica da affrontare uniti, dicono le conclusioni finali. L'altra sfida è quella della Russia. Finché non rispetterà il diritto internazionale e non bloccherà la interferenza nei processi democratici e le campagne di disinformazione diffuse non potremo avere relazioni diplomatiche normali avvertono i leader della Nato. A tirare le somme del vertice il segretario generale Stoltenberg le spese per la difesa comune, dice, dovranno aumentare soprattutto contro possibili attacchi informatici contro il terrorismo e contro il cambiamento climatico. Anche quello può diventare una minaccia globale alla sicurezza. Per la Nato, dunque, lo avete sentito, arrivano da Cina e Roma.